Sì di Arezzo coordinato dal dottor Marcello Caremani Arezzo e in particolar modo la provincia ha dato una risposta completamente diversa una controtendenza a quello che sono stati i risultati nazionali espressione chiaramente dico che la città la provincia ha un modo di vedere, ha avuto un modo di vedere il referendum chiaramente come un cambiamento positivo rispetto a quello che è successo da altre parti. È un dato rilevante perché Arezzo ha rilevato il centro del dibattito nazionale, molti leader nazionali ospitati anche dalle figure istituzionali della nostra città, della nostra provincia del fronte del no, avevano tentato di far diventare questa città un simbolo in negativo della campagna referendaria e invece ci scopriamo non solo una città riformista ma vivace sotto il profilo della volontà di cambiare questo paese. Un esito quello del referendum costituzionale che porta ad altre riflessioni sul piano politico. Il dato oggettivo è che il Partito Democratico in questo paese quando si è presentato alle elezioni, la volta che ha preso più voti le elezioni ha preso più voti erano 11 milioni di voti ed era un dato esorbitante. Questo referendum Renzi raccoglie sul sì 13 milioni e 8 di voti quindi è un dato se lo vogliamo affiancare a un dato politico del Partito Democratico è un dato che il PD non ha mai preso quindi sicuramente ci sono elettori che non hanno mai votato il Partito Democratico e quindi questo è un dato significativo. Non so come si può tradurre perché prima di tutto bisogna attendere quali saranno le decisioni del Presidente della Repubblica le scadenze a futuro. È chiaro se ci fossero le elezioni a breve questo è un dato che potrebbe ritornare anche in un voto che potrebbe sorprenderci. Tra i temi che si sono intrecciati al commento a caldo dell'esito referendario ovviamente anche l'autocandidatura del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi alla Segreteria del Partito Democratico candidatura espressa proprio in terra retina. Quindi credo che il Presidente Rossi abbia in questi giorni sicuramente attivato un suo percorso chiede il Congresso. Io rispetto a lui però chiedo una cosa differente le elezioni prima possibile. Credo che questo Paese debba tornare al voto questo dirò al Presidente del Consiglio questo dirò al Secretario del mio partito questo credo che vogliono tutti i cittadini e quello era quello che spiegavano tutti quelli del fronte dell'occhio che invece oggi parlano di governi tecnici parlano di una legge etorale nel quale magari non sono d'accordo. Mi ripeto e ricordo il mantra di molti esponenti politici nazionali al voto, al voto ecco è giusto andare immediatamente al voto per far lasciare ai cittadini una libertà di espressione che dopo questo referendum è giusto che si dipani anche a livello nazionale.